Non hai ancora controllato la tua caldaia? Affrettati! Con la manutenzione periodica e il controllo dell'efficienza energetica ti assicuri sicurezza, risparmio, rispetto dell'ambiente ed eviti sanzioni. Contatta il tuo manutentore e valuta se puoi integrare il tuo impianto con una fonte rinnovabile per tagliare le bollette. Campagna di sensibilizzazione sul controllo e la manutenzione degli impianti termici a cura della Regione Marche.